Penso che i bambini possano e debbano esprimersi al meglio all'interno delle scuole. Certo, non mi ha fatto piacere chiudere per due mesi le scuole dell'infanzia. L'ho dovuto fare perché dai colloqui fatti al Comitato per la Sicurezza, alla presenza della ASL della Regione, è emerso che era necessario chiudere le scuole dell'infanzia per evitare che la variante inglese si espandesse prima nelle scuole e poi in città. Pescara, dobbiamo ricordarlo, è stata la prima città d'Italia ad essere aggredita in maniera massiccia dalla variante inglese che colpisce i bambini e i ragazzi. Abbiamo messo una barriera tra noi e la variante inglese attraverso la chiusura delle scuole. È stato un grande sacrificio, però questo ci ha permesso di abbattere notevolmente i contagi e oggi di rientrare in una situazione fisiologica, tant'è che Pescara oggi è la città con meno contagi in Abruzzo. E questo è successo e me lo hanno confermato i medici della ASL perché abbiamo chiuso le scuole dell'infanzia dal 6 febbraio. Il 6 aprile riapriranno le scuole perché a livello nazionale è stato affermato che questo deve avvenire. In regione questa è la linea, quindi noi ci uniformeremo alle linee nazionali e regionali. Ovviamente i dati scientifici sono la nostra stella polare, li guarderemo, li verificheremo. Oggi i dati ci dicono che le scuole possono riaprire a meno di una situazione di peggioramento che noi ne auspichiamo e ne pensiamo avvenga. Le scuole riapriranno regolarmente e speriamo che possano proseguire fino alla fine dell'anno con tranquillità e con serenità perché le scuole sono fondamentali per la crescita dei bambini e la didattica in distanza per le scuole dell'infanzia ovviamente non è praticabile.